semplicino incontra il signor vesto tutti come vanno gli affari ma le ho venduto due vestiti sul primo ho guadagnato il 20 per cento ma sul secondo ho avuto una perdita del 20 per cento rispetto al prezzo che ho pagato beh poco male sei andato in pari sei proprio sicuro semplicino semplicino non è un asso in matematica e anche in questo caso ha torto infatti il signor vesto tutti deve aver pagato i vestiti uno 100 mila l'altro 150 mila lire sul primo ha guadagnato il 20 per cento cioè 20 mila lire sul secondo ha perso sempre il 20 per cento il 20 per cento di 150 mila e 30 mila lire 20 mila in più e 30 mila in meno danno un passivo per il commerciante di 10 mila lire il problema di trasportare grossi cari